Benvenuti tutti quanti su questo nuovo video, continuiamo da dove avevamo lasciato ovvero la boss fight contro il rinnegato. Per prima cosa bisogna distruggere i cristalli che c'è intorno alle spalle per abbattergli la difesa. Una volta fatto ciò bisogna uccidere gli zombie vicino a Maxis dentro al cerchio, così da poter caricare i cannoni e utilizzarli contro il rinnegato. Fatto il primo quarto di vita bisognerà riprocedere di nuovo alla stessa cosa, però stavolta non bisognerà distruggere nessuna armatura. State attenti alle sfere elettriche che fa sponare, ritornate sotto Maxis e ricaricate la sua essenza. Riutilizzate di nuovo il cannone laser contro il rinnegato, questo punto avrà metà vita e partirà un piccolo video. Finito il video, Maxis ci riporterà indietro. Il nostro rinnegato avrà dei tentacoli al posto delle braccia. State attenti a questo attacco di ciclope da laser di specie X-Men, ma è abbastanza schivabile, non nulla di compromettente. Stavolta bisognerà distruggere di nuovo l'armatura che c'ha di fronte, situata diciamo nel ventre. Come boss fight è molto ma molto semplice ragazzi, veramente secondo il mio parere. Una volta di nuovo distrutta la barriera bisognerà semplicemente di nuovo uccidere gli zombie dentro il cerchio dove sta Maxis. Uccidiamo gli zombie, carichiamo di nuovo l'essenza di Maxis e riutilizziamo di nuovo il cannone laser. Togliamogli di nuovo una bella fetta di vita, dovremo riutilizzare ancora una volta il nostro bel cannone laser. A questo punto bisognerà distruggere di nuovo la barriera che c'ha stavolta sulla testa, la propria corona di cristalli. Utilizzate una scimmietta se volete sotto Maxis per ricaricare la sua essenza. State attenti a questi turbini di gelo. Il boss possiede tre abilità, il turbini di gelo, i turbini elettrici, quelle sfere elettriche e i propri occhi laser. Distrutto quindi la corona di cristallo potremo utilizzare di nuovo il nostro bel cannone laser. Non dovete sparargli nel petto perché farete poco danno e non vi basterà una carica intera e il boss andrà a rifullare di nuovo il suo bel quartino di vita. Puntate la testa per non missare nemmeno un colpo così che lo distruggiate in una sola volta. Fatto ciò ragazzi succederà leggermente un bordello. Cadranno dei cristalli, attiveranno dei raggi che vi faranno diventare leggermente ma molto addormentati. Basterà semplicemente resistere agli zombie che arriveranno. Fatto ciò partirà il video finale. Distruggerai questo mondo, non finché ci sarò io. Samba, non so cosa vuoi fare ma non farlo. Non sono una cattiva persona Weaver. Io ho un animo buono. So cosa devo fare. Mi dispiace. Questo è l'unico modo. Questo qua era il tutorial su come completare la boss fight del rinnegato. Mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao. 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 Ciao.